La collaborazione istituzionale La collaborazione istituzionale apre a grandi opportunità per farle cogliere a Napoli e ai cittadini, noi abbiamo bisogno della massima cooperazione istituzionale e quindi opereremo in questa direzione nel miglior modo possibile. Lei ha incontrato i vertici della Corte dei Conti? Insieme lavoreremo per il bene delle istituzioni e ovviamente nel rispetto delle regole.